Allora Filippo Pili, un punto importantissimo, sarà di qua fatto 0-0 con Incele Varazze, distanze inalterate in vette domenica prossima. Primo vero match point per festeggiare il ritorno in eccellenza. Domenica ci giochiamo la finale delle finali, è un percorso che è giurato dal primo di agosto. Guarda, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, speriamo di finire nel migliore dei modi. Comunque vada, è stata una grandissima stagione. Oggi tante assenze, è vero, ma questa carcarese vi ha messo in serie difficoltà. È un mese che combattiamo tra squalifiche e infortuni, ma abbiamo una rosa talmente ampia che non abbiamo affrontato nessuna squadra con timore, anzi a viso aperto con tutta, ce la siamo giocata e infatti anche i risultati lo dimostrano. Non abbiamo avuto paura di nessuno e questa cosa ci ha premiato alla luna. Come si è detto anche con il mister, l'aspetto mentale, oltre alle grandi qualità che avete messo in campo per tutto l'arco della stagione, è stato uno step importante dal punto di vista mentale, dell'atteggiamento e dell'approccio alle partite. Oggi è vero, siete più in difficoltà, ma sono tanti i risultati rotondi, contro avversari e di qualità che avete davvero strapazzato. Siamo una squadra molto giovane, molto giovane, che l'anno scorso ha pagato questa cosa. Quest'anno molti di noi, di quelli che sono calmati, hanno fatto un grande salto in avanti sia a livello tecnico, ma soprattutto mentale. Si è visto i risultati, soprattutto con le grandi squadre o anche con le, diciamo, tra virgolette piccole, la mentalità ha fatto da padrone. Domenica forse festeggerete, come sarà questa settimana? Sarà una settimana uguale a tutte le altre, la prepareremo con tutte le altre partite, senza troppa pressione, perché alla fine siamo questi, l'abbiamo dimostrato dal primo di agosto e l'affronteremo con una partita come le altre, non c'è nessunissimo tipo di problema. Grazie. 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 Grazie.